Benvenuti nel mondo degli orologi Nomas. Nomas Glassut è un marchio di orologi di lusso tedesco fondato nel 1990, a Glassut, una città nella regione della Sassonia. Da allora, Nomas è diventato uno dei marchi di orologi più rispettati e ammirati al mondo, grazie alla produzione di orologi meccanici di alta qualità, con un design minimalista e raffinato. La filosofia del marchio si basa sull'idea di creare orologi di alta precisione e di grande qualità artigianale. Nomas produce completamente i propri calibri e movimenti, il che significa che ogni orologio è interamente realizzato in casa, con una grande attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali utilizzati. I movimenti Nomas sono altamente precisi e affidabili, grazie alla loro tecnologia di produzione all'avanguardia e alla grande esperienza dei maestri orologiai di Glassut. La gamma di orologi Nomas spazia dai modelli classici a quelli più moderni, adatti a diverse occasioni e stili. Tra i modelli più popolari troviamo il Tangent, il Club, l'Orion e il Ludwig. Il Tangent è un orologio classico e minimalista, disponibile in una vasta gamma di colori e finiture, perfetto per chi cerca un orologio dal design elegante e sobrio. Il Club è un orologio sportivo e resistente, dotato di una cassa impermeabile e di un cinturino in tessuto, ideale per chi ama lo stile outdoor. L'Orion è un orologio elegante e sofisticato, con una cassa ultrasottile e un design minimalista, ideale per chi cerca un orologio dallo stile raffinato e discreto. Infine, il Ludwig è un orologio dal design accattivante, dotato di una cassa rotonda e di un quadrante a numeri romani, perfetto per chi cerca un orologio dallo stile unico e distintivo. Grazie alla loro attenzione ai dettagli e alla qualità artigianale, gli orologi Nomas sono diventati un simbolo di stile e di eleganza per gli amanti dell'orologeria di tutto il mondo. La loro precisione e affidabilità li rendono molto apprezzati dagli appassionati di orologi, che cercano sempre il massimo della qualità in un orologio. Gli orologi Nomas sono un investimento sicuro per gli amanti dell'orologeria di tutto il mondo.